Siamo davvero arrabbiati. Io prendo il treno per andare a casa e per adesso, appena finisco il lavoro, lo provo a pedalare ancora, da Milano, da Novara, cioè a quanti chilometri. Se il governo dice che da quest'ora a quest'ora le picci possono salire, saremo d'accordo, ma non è che dicono che di no. Noi lavoriamo, anche quando c'era il coronavirus c'erano anche i riders che facevano i lavori, che portavano la magia ai domicili, a quelli che avevano bisogno. Ma adesso che è finita la storia del coronavirus, loro vogliono metterci indietro. Perché? Non va bene così. Abbiamo i diritti come tutti, tutti, tutti. Non siamo venuti qua per arrivare. Lavoriamo, paghiamo le tasse. Abbiamo i diritti come ci deve essere. Ci dette ai governi che noi dobbiamo essere come gli altri. Fate guidare, eh? Sì, certo. Fate guidare questo messaggio. Noi abbiamo più di abbono, più di diritti. Sì. Tutti noi. Noi abbiamo più di abbono, più di abbono, più di abbono.